Ma sono caffè per bevete qua? Un camparino no? Un camparigine, niente, eh? No, un caffè, un caffè. Va bene subito, eccolo. Grazie. Prego tutto. Chiamino io a quello che mi dica. Ma ma come vuoi di prima? Lei mi ha chiesto qualcosa. Ho capito, un caffè, un caffè, un caffè. A Roma si è fatto così. Oh, sei regalato come un bicchiere d'acqua? Ma mi fai buttare questo caffè. Al vetro lo voglio. Ho capito, ma lo devi di prima. Ma un caffè al vetro. Cominciamo bene oggi, eh? Dai, va, famogli questo caffè al vetro. E famogli questo caffè al vetro. Ma con un caffè quanto devo devo far pagare? Mezza piotta. Eh? Gli è meno io a quello che non gliela fai a me non gliela. Porta marmare, dove pare? Tanto so craft ma uguale. Come lo vuoi, corto o lungo prima che ti dà un cazzotto in bocca? Non ho capito, mi perdoni. Come lo vuoi, corto o lungo prima che ti dà un cazzotto in bocca? Corto, ma poi è lungo. Ah, ma questo è lungo. Ah, ma questo è lungo. Cioè, ti bello, vedi te lo forza. No, no, ma no, voglio un caffè corto. E famogli il caffè corto. E famogli il caffè corto. Terzo caffè. In modo, in modo esistamo io. Ma che disciplina sei venuto a fare qua oggi? Cioè, sei venuto in palestra? Nuoto. Eh? Nuoto. Nuoto, non c'avevi mai la piscina qua che fai? Come non c'è la piscina? Eh? Non c'avevi mai la piscina qua. In modo che faccio il caffè corto. Mi hanno detto che c'è l'itromassaggio. C'è l'itromassaggio? Sì, che vuoi? L'itromassaggio pure con l'happy ending. Amo le lungo lungo, vuoi? Eh? Ti ho, vedi te il caffè corto qua che già mi sta a perdere troppo tempo. Dai. Forza. Avicina. Ma in serio? Che disciplina sei venuto a fare? Oh, è il caffè. Ho capito, ma... Ma che me vuoi proprio dire? È bruciato. Ma no, ma è corto troppo. Non c'è la p***a. Ho capito. Mi dici che disciplina sei venuto a fare tu oggi? Cosa sei venuto a fare? Qui c'è il fuggilato, c'è il kickboxing. No, il fuggilato mi fa schifo. Ah, il fuggilato ti fa schifo? Ma non è che sei venuto a fare il craft magia? Anche, potrebbe essere. Ah, sei venuto a fare il craft magia? Sì, potrebbe essere. Guarda. Ah, per che magia. Tu faccio subito il caffè. Guarda. Ti ho anche il bicchiere qui. Ci mancherebbe altro. Aspetta. Ecco qua. Te lo preparo subito il caffè. Ci mancherebbe altro. Allora, guarda, eh. Mi dici tu quando devo stoppare. Guarda, eh. Dimmi tu quando devo stoppare, caro. Ma le due meno cinque sono? Non lo so adesso che le sono. Dimmi tu, dimmi tu. Guarda, guarda, guarda. No, ma non voglio più il caffè. Voglio una spremuta. Guarda, vuoi una spremuta. Vabbè, intanto questo caffè, però, guarda, è venuto proprio bene, 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 bene. No, è venuto meno cinque. Guarda quanto è venuto bene. No, è venuto meno cinque. È venuto meno cinque. È venuto meno cinque. No, no, no. Una spremuta. Vuoi una spremuta? Ma se ti faccio invece un bel succo d'ananas? Va bene. Perché l'ananas fa bene, capito? Guarda, vieni. Va bene? Un bel succhetto d'ananas. Sì, sì. Ma sei sicuro che il caffè no? Ma questa è la bottiglia cominciata? Voglio una bottiglia chiusa. Va bene, no, ma questa l'ho appena aperta. No, no, no. Ma prenda. Devi vedere se il succo d'ananas. Mi perdono. Ma no, non lo voglio. Voglio una bottiglia chiusa. Ma che ne so io? Questa è aperta, è finita. Voglio una bottiglia chiusa. Sigillata. Va bene. Ho il succo d'arancia, guarda, sigillato. L'ananas. Vuoi l'ananas? L'ananas non c'è. E' finito, mi dispiace. Cosa preferisci? Ti va bene il succo d'arancia o vuoi proprio quello d'ananas che non ho? Se no, non c'è questo quello d'ananas. Io devo farlo in quella direzione comunque qui, eh. E il caffè non vuoi più. E il succo d'ananas non vuoi più. Allora, guarda, c'ho ace, mirtillo, arancia rossa, pesca. Un bicchiere di Coca-Cola, un bicchiere di Coca-Cola. Eh? Un bicchiere di Coca-Cola. Un bicchiere di Coca-Cola. Però, oh, famo che è l'ultima cosa, no? Eh, non lo so, non è colpa mia. L'ananas non ce la vede. Il caffè fa schifo. No, ecco, guarda, la Coca-Cola. Guarda che bella. Coca-Cola. Va bene, ti va bene questa? Ecco qua. Prego, dottor. Guarda, guarda, senti. Ancora bella cassata. Ecco qua il tuo bicchiere di Coca-Cola. Prego. Un bicchiere di Coca-Cola, non mezzo. Un bicchiere. Va bene. Ecco qua. Posso prendere una pasta? Ma certo. Ma sicuramente sì. Sono tutte fresche, eh, di oggi, eh. Allora prendo cioccolato. Va bene. Prendi quello che vuoi, così qua non ci puoi ripensare perché lo prendi tu. Ma è di una settimana? No, no, sono te stamattina. Ma portate, guarda, al forno qua. C'è un forno? C'è un forno buonissimo che ce le fa proprio apposite per noi e ce le porta una mattina, tutte le mattine. E che no, senti, la pasta frolla che buona. Sembra acida. Ma che acida dai, su, c'è il cioccolato mica la crema, oh. Mo' mi sta a far perdere tempo, eh. Mi sta a far pure perdere la pazienza, eh. Dai, su, devi farci il conto così rompi meno il cazzo. Allora, che ci avemo? Un bicchiere di coca cola e una pasta, no? Giusto? Una piatta e mezza. Non ho capito. Una piatta e mezza? Sì. Che bicchiere di coca cola che ha la pasta? Una piatta e mezza. Una piatta e mezza. Vieni a far corso di Krav Magia. Una piatta e mezza. Dai, una piatta e mezza. Dai, una piatta e mezza. Mi devi tardegna, Sam. Oh. Dai. Dai, sei venuto a far corso di Krav Magia. Non vuole. Sei un Krav Mago. Mi devi dare una piatta e mezza. Ma lì ho listino prezzi? Eh? Sì. Quello è listino prezzi per chi viene a fare più girato, per chi viene a fare kickboxing. E tu che sei venuto a fare qua? Krav Magia. Mi devi dare una piatta e mezza. Piano, mi fa una testa. Oh, mi devi dare una piatta e mezza, zio. Mi devi dare una piatta e mezza. No, già. Oh, qua te levo tutto. Dammi una piatta e mezza. Forza, sbrigate. Mi devi dare i soldi. Ma che cosa stai facendo? Voglio prima i soldi. Paga il banco, Matteo. 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 Che costo ce la vede? Ma che che devo fare? La faccia da matto. Dai. Per forza il banco, Matteo. Dammi i soldi. Mi devi dare i soldi. Oh, ma stai a far perdere la pazienza. Ma che devi uscire dal bar? No, vengo da io. Ma dove vai? Vengo da io. Dove vai? E vieni? Ma che mi hai scalacato dal bancone? No! 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 C'è nessuno qui al bar? Sì, eccomi, arrivo! Arrivo! Tutto bene? Sì, ciao, buongiorno Ciao, un bicchiere di Coca-Cola per favore Un bicchiere di Coca-Cola, subito Ecco qua Come mai tu in palestra che corso fai oggi? Kick Ah, kick, bella kick Bellissima Sì, sì Anche a me Allora, per te il bicchiere di Coca-Cola sono 50 centesimi Grazie Ma prego, ci mancherebbe Te li porto dopo, eh Va bene A dopo, a dopo Non c'è problema Vatti allenare che poi ci vediamo dopo Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti